E rieccomi qui ancora in vacanza ma sempre sul pezzo con voi ragazzi e ragazze perché siamo a 70.510 dollari al momento per quanto riguarda il prezzo di bitcoin che sul grafico mensile come potete vedere ha realmente bucato il precedente all time i quindi stiamo entrando in una nuova fascia stiamo entrando in una nuova era. Dobbiamo capire quanta continuazione possiamo avere su questo movimento adesso se io mi sposto sul time frame orario vedete l'aumento di volumi che c'è forse da qui non lo vedete bene perché sta in sotto ma comunque c'è un bello spike di volumi il prezzo sembra voler continuare questa volta per davvero anche se è ancora presto per poterlo giudicare perché le ultime volte che abbiamo visto questi spike di prezzo in all time i il prezzo è stato subito ribottato giù ed è tornato nella fascia tra i 69 e 68 mila dollari. Vediamo se questa volta riusciamo ad avere più continuazione e riusciamo soprattutto a chiudere sopra questa resistenza dei 69.911 se riuscissimo a fare questo con un ierlo in ierai di continuazione e avere più propulsione a rialzo a quel punto possiamo andare ad approcciare i 75 mila dollari ricordate che siamo in price discovery in questo momento siamo in all time i quindi non ci sono resistenze sulle nostre teste e andare a bucare tutto quanto è come un coltello che buca il burro. Molto più semplice di quando abbiamo resistenze sopra le nostre teste quindi adesso chi continuerà a shortare rischierà molto di essere liquidato rischierà degli short squeeze e questo continuerà a far salire il prezzo. L'abbiamo visto con invidia l'abbiamo visto con tanti altri nomi precedentemente nello stock market e l'abbiamo visto in bitcoin tante volte precedentemente. Ricordate nell'ultimo time i sono andati da 20 a 69 come il burro quindi molta attenzione il mio target degli 84 mila dollari comunque è sempre valido per quest'anno quindi andiamo poi a vedere ovviamente un target così mio personale non significa niente non dovete prenderlo assolutamente sul serio. Ad ogni modo prima di continuare con l'analisi di bitcoin e anche di alcune altcoins voglio passare attraverso alcuni dati importanti. Innanzitutto prima voglio dire ai ragazzi che missione spazio è qui e se non entrate nel gruppo telegram adesso che è gratuito lo sarà per sempre però in questo momento di mercato dove c'è bisogno di attenzione c'è bisogno di rimanere sempre sul pezzo vi perdete una grande fetta perché è gratis lo trovate in iscrizione nel primo link e qui troverete non solo airdrop pre 6 guardate abbiamo fatto anche quella di dop completato 85 partecipanti sul gruppo trovate anche tutti i link per quanto riguarda i migliori exchange che noi usiamo personalmente con tutti i bonus migliori al settore quindi trovate tutto in descrizione del video vi prego di andare a dare un occhio a missione spazio il gruppo telegram gratuito di mind the chart. Andiamo avanti perché qui vediamo la situazione loser e winners qui vediamo che comunque ancora ci sono nomi tra AI e meme che continuano a dominare il settore in questo momento mentre altri nomi come le big cap ancora stanno attendendo la dominanza che scenda per davvero. Comunque ragazzi vi ricordo sempre di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto col click sulla campanellina perché la maggioranza di voi che guarda questi video non è iscritto al canale in momenti come questi assolutamente importante. Vediamo come le istituzioni che rappresentano trilioni di dollari di asset si preparano ad acquistare bitcoin attraverso gli ITF entro giugno così dice Matt Hogan di Bitwise. Bitwise come sapete è coinvolto in queste discussioni per quanto riguarda approfondire seriamente la questione con grandi aziende e consulenti istituzionali in primo piano e quindi cercano di aumentare l'esposizione di bitcoin attraverso questi istituzionali. E qui vediamo quali sono gli istituzionali che potrebbero entrare quindi abbiamo i REAS che sono i Registered Investment Advisor quindi Family Officer, Edge Fund, Venture Capital, Asset Manager tutti questi potrebbero entrare attraverso l'ETF. Quindi abbiamo anche Major White House, Large Corporation, Institutional Consultant quindi tanti di questi stanno discutendo per poter depositare trilioni addirittura dentro bitcoin. Quindi come potete vedere il prezzo sta creando una supply shock e lo stiamo vedendo assolutamente. Sì perché l'effetto di questa supply shock lo vediamo dal prezzo e quindi è molto interessante secondo me continuare ad osservare tutto quanto. Notiamo anche come BlackRock qui vediamo che ha superato ufficialmente MicroStrategy per quanto riguarda il possesso totale di bitcoin quindi su ETF bitcoin, iShares bitcoin, iBit detiene ora 195.985 bitcoin superando i 193.000 detenuti da MicroStrategy. Questo è in 9 settimane, questo capite quanto potenza sta entrando assolutamente nel settore. Ma continuiamo perché quello che vediamo è che tutti questi ETF, quindi BlackRock, Fidelity, Ark Investment, Bitwise, hanno praticamente acquistato complessivamente 56.954 bitcoin questa settimana. I dati come vediamo mostrano che questi acquisti settimanali di bitcoin da parte di ETF superano di gran lunga i bitcoin prodotti attraverso il mining. E questo è importante ricollegandoci al supply shock di cui stiamo parlando. Durante le 9 settimane esaminate i 4 principali ETF hanno accumulato in media 40.000 bitcoin raggiungendo il massimo di 68.000 bitcoin nella seconda settimana e BlackRock è il leader del gruppo. Parlando appunto di Alving, di miners, non di Alving, pupazzetto, di cui hanno parlato sulle testate giornalistiche in Italia, ma il mining di blockchain che coinvolge i miners, praticamente Satoshi Nakamoto ha programmato bitcoin in modo che ogni 210.000 blocchi completati la ricompensa dei miners venga dimezzata. Il prossimo dimezzamento, il prossimo Alving, è previsto per il 17 aprile, block time permettendo, che ridurrà le ricompense dei minatori ovviamente da 6.25 a 3.175 bitcoin. Ci saranno in totale 32 dimezzamenti fino al 2140. Ora vediamo la reazione del prezzo ogni volta che c'è stato Alving, post Alving, tendenzialmente sempre salito. Ora, io la prendo sempre con le pinze questa cosa, perché per me è più un effetto mediatico, ridondante, che non tanto sul prezzo. Però non possiamo negare che comunque il prezzo poi abbia continuato un po' a terri alzista dopo l'Alving. Vedremo. Vedremo se questa volta ci sarà il sell the news, visto che siamo saliti anticipatamente, oppure no. Ok, qui vediamo anche i dati economici, perché gli investitori stanno attendendo i dati sull'inflazione. Jerome Powell aveva parlato settimana scorsa al congresso e aveva detto che la banca è un po' più fiduciosa di voler tagliare i tassi se ci avviciniamo al target del 2%. I dati pubblicati venerdì dimostrano che i dati di stipendi di febbraio sono risultati superiori alle previsioni, ma i guadagni di gennaio e di dicembre sono stati rivisti a ribasso. Insomma, non avremo un taglio dei tassi a marzo, ma probabilmente inizieremo da giugno. Questo è quello che vogliamo vedere. Bassi costi di transazione su Ethereum con l'aggiornamento di IP4844 Il developer core di Ethereum, eric.eth, ha annunciato che l'IP4844 sarà rilasciato il 13 marzo, riducendo le commissioni di transazione di Ethereum a 0.01 precedentemente. Era stato riportato che Ethereum ha pubblicato l'annuncio per l'upgrade della mainnet di Denkun. Denkun dovrebbe essere attivato sulla mainnet di Ethereum alle 21.55 ora di Pechino il 13 marzo del 2024 con l'altezza del blocco 269.568 L'upgrade va a introdurre un temporane data blob con l'IP4844, noto anche come proto-dark sharding. E questo aiuterà a ridurre le commissioni di transazione sui layer 2 di secondo livello. Abbiamo anche un aumento dell'open interest e questo aumento dell'open interest sui contratti ha raggiunto il record di 481.000 bitcoin, circa 33.097 miliardi. Anche su Ethereum questo indica un crescente interesse per quanto riguarda il settore. Quindi più l'open interest sale, più è rischiosa anche per i movimenti nevrotici del pezzo, ma comunque l'interesse del settore in questo momento c'è. E' tornato sicuramente più di prima. Ora torniamo sul grafico di bitcoin perché è 71.000 dollari, qui possiamo vedere che comunque la 12.26 avevano mantenuto il prezzo molto molto bene. Qui vediamo come stiamo cercando di arrivare verso i 72.000 dollari, ora qua non ci sono resistenze sopra le nostre teste, quindi non c'è molto da analizzare. Ma comunque più ci portiamo in alto, più sarà facile poi andare a fare un error di continuazione per quanto riguarda il prezzo, magari con una bull flag o quant'altro. Per quanto riguarda il resto che ci interessa della bitcoin dominance, vediamo che comunque continua a salire. Questo cosa significa? Significa che fino a che non vedremo bitcoin che lateralizza adesso che siamo in una fascia di all time high, le real coins non riusciranno, quelle big cap, a prendere trazione per davvero. Quindi comunque stiamo vedendo tutto, sta salendo anche il total 2, quindi anche le real coins comunque stanno procedendo a rialzo senza dubbio. Tutti i nomi stanno andando abbastanza bene, c'è un bel recupero, vedete qui. Soprattutto Near Protocol sta andando molto molto forte, qua vediamo il suo pattern a scaletta che sta facendo a year loss a year rise. E continua a mantenersi sopra a 12.26 e quindi Near Protocol continua ad andare benissimo a 6.80. Poi abbiamo The Sandbox, no scusate, Theta Token, vedete come è a 3.38 continua la sua corsa a rialzo, anche Theta è mostruosamente forte in questo momento e quindi vedremo se continuerà la sua corsa a rialzo. Andiamo a vedere se ha resistenze qui in zona 4 dollari, probabilmente ce le ha, quindi molta attenzione su questi nomi con molte resistenze dietro le teste. Stax continua a andare forte, qui vedete che sta cercando di recuperare dopo il depistamento che ha avuto questo low a 2.19, ha recuperato tutto e sta cercando di andare a 3.42. Molto forte la narrativa adesso su Bitcoin, i layer di Bitcoin, quindi vediamo come ha rotto i nuovi massimi e sta cercando di continuare. Ovviamente Stax è un di quei nomi che se Bitcoin è forte lui continua ad essere anche forte, è molto correlato. OKB, vediamo anche lui che continua ad andare molto forte, il token di OKEX e qui non possiamo dire niente, come exchange token lui continua a pompare molto forte. Link, grande continuazione, il link sta facendo un 2023-24 fortissimo, ha tanta strada da fare per recuperare i massimi, però comunque si sta spingendo molto oltre. E BNB con tutti i suoi launchpad continua il recupero verso i massimi, anche lui se continua a fare tutti questi launchpad probabilmente ce la potrà fare. E quindi vedete che BNB continua a pushare il prezzo a rialzo. OK ragazzi, quindi questa era più o meno la panoramica di oggi, vedremo adesso come si comporterà Bitcoin, dove andrà Bitcoin, cosa farà Bitcoin. Noi questa sera ci troviamo su Shillers, il podcast che ritorna, poi avrete tutte le indicazioni probabilmente su Twitter per quanto riguarda l'orario e il resto. Io vi ricordo ancora, Missione Spazio ragazzi, unitevi perché è gratis e quindi non vi costa assolutamente nulla. E date un occhio a tutti i link in descrizione e iscrivitevi al canale subito. Io continuo la mia vacanza, ci vediamo alla prossima, ciao a tutti. Ciao a tutti.